ciao bimbi bentornati un saluto da melania un saluto da luna come state spero bene io e luna stiamo molto bene e adesso intanto volevo dirvi ricordatevi di mettere mi piace di iscrivervi al gruppo se non se al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella della notifica e metterla su tutte così vi arrivano tutte le notifiche tutte le notizie dei video appena caricati luna si è presa il mio pozzetto gioca con quello luna fai la brava va bene e allora un'altra cosa importante ieri insieme a mio figlio adriano siamo stati in libreria e per comprare tanti nuovi libri da leggervi tante nuove storie da leggervi le abbiamo scelte le abbiamo letti voi siete mai stati in libreria bimbi e allora se non l'avete mai fatto se non siete mai stati in libreria dite a mamma e papà o ai nonni di accompagnarvi perché la libreria è un posto meraviglioso dove potete trovare tanti libri e tante storie da leggere perché sapete bimbi dentro i libri ci sono tanti mondi meravigliosi qua lunga qua qua è tutto il pezzo qua 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 tanti bei mondi meravigliosi da scoprire tanti viaggi da fare posti incantati posti fantastici proprio qua dentro guardate aprendo un libro guardate cosa mi faccio vedere no questi gioia a prendo un libro guardate che cosa mi sembrano a me sembrano proprio due ali per volare perché attraverso i libri vedete potete volare la vostra immaginazione vola in posti sconosciuti va a fare tantissime nuove scoperte mondi nuovi e allora oggi leggeremo insieme il lupo che non amava leggere e la storia di lupo era un pochettino piricchino vediamo che cosa fa e allora come al solito mettetevi comodi io e luna siamo qui sul stappeto voi scegliete un posto tranquillo e ascoltate bene la storia buon ascolto vieni luna vieni qua vieni qua prendiamo la prima pagina e vediamo che cosa c'è c'era una volta un lupo che divorava i libri quelli piccoli quelli grandi le fiabbe i dizionari e i romanzi tutti passavano sotto i suoi denti affilati non poteva resistere adorava il gusto della carta guardate li divorava guardate li mangiava non era tanto per dire che li divorava proprio se li mangiava gli piaceva il sapore della carta questo lupo si chiamava lupo un giorno andò a trovare i suoi amici animali nel nel bosco e loro gli dissero ma non ti viene mai voglia di sapere cosa succede dentro le storie gli chiese un lupo gli chiese un giorno lupa irritata leggere ascoltate bene significa vivere avventure sognare volare con l'immaginazione allora il lupo rispose preferisco viverle davvero le avventure quando leggo mi annoio ah sì disse mastro bufo ti assicuro che con questo libro non ti annoierai l'abbiamo scelto tutti insieme proprio per te e non giocheremo più insieme a te se non l'avrai letto tutto aggiunse valentino a casa lupo si accomodò nella poltrona con il libro rontolando girando una pagina girando la seconda pagina alla terza si addormentò proprio così russava vedete è andata a trovare i suoi amici nel bosco e poi a casa sulla poltrona si addormentò mentre sfogliava il libro andiamo avanti cosa succederà lupo fu svegliato da una voce che si lamentava si guardò attorno si guardò di qua si guardò di là non era più nel suo salotto di casa ma in un bosco pieno 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 di libri ai piedi di un albero un vecchio scogliatto lo gemeva ma dove li ho messi accidenti non so che cosa ne ho fatto uffa e il lupo gli chiese cosa ne hai fatto di cosa in modo molto gentile e lo scogliatto lo rispose dei miei libri sono spariti dieci libri guardate contiamo insieme servono tutte e due le mani uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci libri erano spariti e che fine hanno fatto ma lupo si stropicciò gli occhi stava sicuramente sognando chi è lei chiese stupito e dove mi trovo dai lupo io sono il bibliotecario rispose lo scogliatto e tu ti trovi nel paese dei libri nella grande biblioteca qui sono custoditi tutti i libri scritti nella notte dei tempi ma ne mancano dieci ora come faccio colpito lupo propose se vuoi posso aiutarti a cercarli te ne sarei molto grato rispose lo scogliattolo se li ritrovi mettili in questa borsa e lo scogliattolo gli diede una borsa guardate passò la borsa al lupo cosa succederà lupo si allontanò desideroso di farsi una bella passeggiata ma ben presto fu fermato da delle voci sonore un corvo stava appollaiato su un albero e sotto c'era una volpe che si lagnava al lupo però la scena compareva nuova ieri hai preso il mio formaggio e adesso rubi il mio libro non è il tuo libro è il mio rispose la volpe infilando il libro dentro il paniere vedendogli occupati a litigare lupo agguantò il libro e se lo infilò dentro la borsa e un libro era stato recuperato vedete qui c'è il corvo e qui c'è la volpe e questa è la storia proprio del corvo e della volpe lupo si sedette sotto un albero con il libro tra le zampe aveva una voglia terribile di mangiarlo fu allora che passò da lì davanti guardate chi passò guardate cosa esce fuori da lì passò un coniglio bianco andava molto di fretta e teneva tra le mani un orologio e un libro l'aveva sotto braccio e correva di qua correva di là sparì in una tana mormorando per le mie orecchie e i miei paffi come sono i ritardi tanti e tanti e tanti senza esitare un attimo lupo lo seguì percorso un lungo tunnel e sbucò in una stanza strapiena di coccetti in cui c'era un delizioso profumino di pane grigliato e di burro e di crema alla vaniglia ma dove sarà arrivato? vieni qua Luna ascolta la storia insieme a mamma vieni vieni qua benvenuto nel paese delle meraviglie salutò il coniglio perché mi servi? gli chiese al lupo cerco i libri che ha perso il bibliotecario e mi sembra proprio che tu ne abbia uno questo fece il coniglio facendo vedere il libro lo sai questo libro racconta una storia parla di me e di Alice è proprio una storia appassionante disse il coniglio e se tu prendi il caffè insieme a noi aggiunse uno strano gatto che sorrideva con i denti con i denti larghi grandi 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 te lo daremo e allora il lupo cosa fece? si sedette a tavola con loro beve il suo tè prese il libro e lo infilò dentro la sua sacca poi si accomodò e disse mmm tutto è squisito su questa tavola era tutto molto saporito vedete? questo è il tavolo con tutti i personaggi di Alice nel paese delle meraviglie il bianconiglio lo stragatto il cappellaio matto i gemelli se non l'avete mai letto questo libro ditele a mamma e papà di comprarmelo e di leggervelo dopo il tè il lupo salutò tutta la compagnia aprì una porta e si ritrovò nella giungla uuuu cosa accadrà in questa giungla? fece qualche passo e fu quasi deluso nello scorgere due libri abbandonati sotto una roccia trovarli però era stato fin troppo semplice troppo facile allora prese questi due libri e li mise dentro lo zaino due più uno fanno tre più uno fanno quattro esclamò il lupo prima di essere travolto da un ragazzino che cavalcava sapete cosa? non un cavallo una pantera nera se fossi in te non resterei di fermo gli gridò la pantera la tigre shercan ci è alle calcagne stava arrivando la tigre per prenderli e chi erano questi personaggi? sapete chi sono? sono tanzen e la pantera nera il libro della giungla a quelle parole si odìò un roggito terribile tanto terribile che il lupo rimase piotrificato arrampicati su questo albero svelto ordinò una voce caduta dal cielo lupo lupo non se lo fece ripetere due volte e si arrampicò sull'albero a tutta velocità sulla cima lo attendeva qualcuno e allora bimbi per scoprire chi il lupo troverà sopra l'albero dovete aspettare il prossimo video vedete all'interno dei libri il lupo trova tantissime storie straordinarie tantissimi mondi da scoprire mondi che neanche lui sapeva che esistessero perché grazie ai libri con la nostra immaginazione possiamo arrivare dove vogliamo possiamo volare su nel cielo possiamo scalare le montagne possiamo mangiare i pupazzi colorati come fa luna vedete luna forse immagina che questo pupazzo è un pollo gigante da sgranocchere e da mangiare vero luna? ti piace questo pupazzo luna? ti piace questo pupazzo? mmmm è come il lupo forse ah ma sgranocchere tutti i pupazzini tutti 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 quelli piccoli quelli grandi quelli colorati quelli neri quelli di un solo colore guardate fa la lotta luna la lotta con i pupazzi e allora bimbi voglio ricordarvi inoltre che c'è potete dire i vostri genitori ai vostri amici cuginetti che su facebook c'è la pagina che si chiama il libro infinito dove metterò tutte le notizie dei nuovi video darò informazioni potremmo chiacchierare e mi piacerebbe pure sapete che cosa? che voi realizzaste dei disegni per me delle storie che proteggiamo quindi al termine delle storie potete fare un bel disegno far fare la fotografia mamma papà e metterla sulla pagina di facebook ricordate il libro infinito fatelo cercare da mamma e papà vi aspetto lì e aspetto tanti 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 bei disegni ci vediamo al prossimo video per terminare la storia del lupo e allora devo salutare due bambine che mi seguono che seguono tutti i miei video una si chiama Cristina è la sua mamma Daniela e anche Chloe è la sua mamma Rosy ciao mi raccomando seguite tutte le nostre letture tutte le nostre storie mia e di luna un bacio ciao